Anch'io a nome del gruppo della Lega Nord, ovviamente esprimo le possibilità di condoglianza e vicinanza alle famiglie dei nostri connazionali uccisi e anche torturati in Bangladesh. Esprimo ovviamente vicinanza anche a tutte quelle persone appartenenti ad altre nazionalità uccise e torturate dal fondamentalismo islamico. Però, Presidente, non credo che debba finire la stagione delle lacrime e delle condoglianze. Bisogna iniziare una stagione dove con atti concreti si contrasta il fondamentalismo islamico. In primo luogo rendendosi conto delle timide reazioni avute anche in questa occasione da parte dell'Islam moderato, cosiddetto moderato. Bisogna confrontarsi con dei paesi con i quali il nostro paese ancora oggi intrattiene forti relazioni economiche che direttamente o indirettamente continuano a finanziare il fondamentalismo islamico ed anzi finanziano anche moschee in Europa, la stragrande maggioranza delle moschee in Europa e mandano imam wabiti a predicare anche nel nostro paese, imam fondamentalisti. Bisogna iniziare un serio controllo a tappeto delle comunità islamiche, finirla con l'estremismo tollerante che concede qualsiasi cosa a qualsiasi prezzo. Non va bene qualsiasi cosa. Non è che anche quella concezione di costringere le donne a mettersi un velo, l'intolleranza, la non volontà di integrarsi nel nostro paese va bene perché arriva dall'altra parte del mondo. Così non è e lo Stato deve reagire. Bisogna chiudere tutti quei centri islamici che sono nella sostanza centri di culto abusivi. Bisogna bloccare l'arrivo di clandestini. Noi in questo momento abbiamo migliaia di persone che non sappiamo chi siano, che il governo non sa chi siano, chi girano liberamente su territorio nazionale. Vado a concludere. E bisogna infine sospendere, come ho detto prima, i rapporti con quei paesi che finanziano il terrorismo. Azioni concrete, basta lacrime. Grazie Presidente.